Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con gli eventi della settimana e le ricorrenze per il mondo della scuola con il vice direttore della tecnica della scuola Reginaldo Palermo. Professore, le chiedo di partire da una questione abbastanza scottante che è quella dei vincoli della mobilità. Che novità ci sono in merito? Perché so che c'è molta confusione a riguardo. Fino a qualche giorno fa si pensava che ci potesse essere una soluzione con un emendamento all'interno del decreto mille proroghe. In realtà di emendamenti ne sono stati presentati due, nessuno dei due è stato approvato. Si è incominciato a dire sì ma non importa perché potremmo inserire una qualche cosa all'interno del decreto PNRR ma nelle ultime ore abbiamo avuto la possibilità di vedere in anteprima il testo del decreto che verrà approvato dal Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni, già pensiamo durante questa settimana e al momento all'interno di questo decreto non c'è assolutamente nulla che riguardi appunto il tema dei vincoli per la mobilità. Ci sono tre articoli che riguardano la scuola ma nulla che concerna questo argomento. Quindi a questo punto c'è da pensare che i vincoli per la mobilità restano così come oggi prevedono le norme di legge. Bene allora non c'è più nessuna speranza, non c'è nessuno spiraglio? Ma allora in teoria un piccolissimo spiraglio c'è ancora perché il contratto integrativo sulla mobilità non è ancora concluso, anzi venerdì prossimo, venerdì 17 la data non è delle migliori ma insomma vedremo che cosa succederà, venerdì 17 c'è ancora un incontro del tavolo del contratto integrativo e può darsi che capiti qualche cosa. A mio parere ma soprattutto anche a parere degli esperti, a parere degli addetti ai lavori è molto probabile che al termine dell'incontro di venerdì o magari anche di quello successivo se venerdì non si riesce a chiudere tutto, il ministro decida di chiudere la questione con un atto unilaterale. Quindi è molto difficile che si possa arrivare ad un accordo con le organizzazioni sindacali. Ovviamente in questi casi quando si parla di politica sindacale il condizionale come usa dire è assolutamente obbligatorio. Quindi aspettiamo un attimo gli eventi, vedremo cosa succede. Come sta andando invece la questione del decreto mille proroghe e il suo iter? Per quanto riguarda il decreto mille proroghe possiamo dire che proprio in queste ore, martedì pomeriggio, sta iniziando presso l'aula del senato l'esame finale, l'esame definitivo del provvedimento. Si tratta appunto della conversione in legge del decreto. Decreto che è stato modificato durante il passaggio nelle commissioni riunite di affari costituzionali e bilancio. Sono cambiate alcune cose, sono state inserite delle novità. Una novità riguarda ad esempio il concorso dirigenti scolastici 2017 e si stabilisce che i docenti che hanno fatto ricorso potranno accedere ad una sessione diciamo così riservata per portare a termine il loro percorso che avevano dovuto interrompere per i motivi che sappiamo e che adesso qui non riprendiamo per brevità e per comodità ma trovate tutto nel nostro sito su questo argomento. Poi c'è un emendamento importante anche che riguarda il concorso straordinario bis, c'è una proroga che riguarda i termini per la messa a norma degli edifici scolastici in materia di sicurezza. Ci sono diverse cosette importanti, c'è anche un emendamento che riguarda il concorso straordinario bis. In settimana certamente il decreto sarà approvato dall'aula del Senato e poi dovrà passare all'aula della Camera. Vedremo appunto che cosa succederà ma oramai diciamo che il testo che si conosce adesso è il testo definitivo perché certamente alla Camera non ci saranno ulteriori modifiche. Passiamo ad un'altra questione alquanto scottante anch'essa, la questione del rinnovo della parte normativa del contratto scuola. Che novità ci sono? Allora per questa settimana non succederà assolutamente nulla, non ci sono incontri in programma. Un incontro in programma invece per la prossima settimana, da quanto ne sappiamo in questo momento, martedì della prossima settimana, appunto martedì 21, dovrebbe riaprirsi il tavolo e si potrebbe proseguire con l'esame della parte normativa del contratto appunto come hai detto. Ne parleremo la prossima settimana perché al momento attuale abbiamo soltanto le date e non sappiamo ancora con precisione di che cosa si parlerà. Allora concludiamo con una ricorrenza. Cosa ricordiamo questa settimana? Beh questa settimana c'è una ricorrenza molto interessante che certamente potrà essere utilizzata dai docenti di storia, non solo da loro, ma anche da quelli che si occupano di educazione civica perché il 18 di febbraio del 1861 si riunì per la prima volta il Parlamento Unitario, cioè quindi praticamente con questo atto nasce l'Italia Unita che ovviamente era ancora una monarchia ma comunque il primo atto importante del Parlamento Unitario, quindi è una data che in qualche modo può essere utilizzata anche dal punto di vista didattico. Grazie, grazie per queste risposte al vice direttore della tecnica della scuola Reginaldo Palermo, un saluto a tutti e al prossimo appuntamento. Grazie.